Inaugurazione in grande stile a Mondolfo per il nuovo campo sportivo in via fermi che ospiterà le partite di calcio a 5 e di calcio a 8. Dopo i nostri servizi sullo stato di avanzamento dei lavori, sabato scorso alla presenza dei ragazzi delle scuole, delle autorità civili, militari e religiose, dell'amministrazione comunale, regione e con i marchi, taglio del nastro della struttura. Prima della mia elezione a sindaco mi ero battuto per la sua riqualificazione, era anche uno dei nostri punti all'interno del nostro programma amministrativo con il quale ci siamo candidati nel 2016, ricordo anche lo scetticismo di tanti cittadini che anche giustamente la consideravano come visti precedenti, come l'ennesima promessa che poi sarebbe stata puntualmente disattesa e invece siamo qui. L'opera, dal costo di 300 mila euro, di cui 75 mila ricavati dal bando Coni-Regione Marche, ha visto lo scambio simbolico del pallone al centrocampo tra il sindaco Barbieri, il presidente Coni delle Marche, Fabio Luna e il presidente della regione, Luca Ceriscioli. Questo è uno dei 106 progetti che hanno avuto il finanziamento della regione sulla riqualificazione degli impianti sportivi. È stata una scelta importante quella di puntare sullo sport, di dare la possibilità a tanti comuni e società sportive di riqualificare i propri impianti. Sono stati 7 milioni di euro complessivi messi a disposizione della regione ma che sono diventati almeno 20 perché ognuno ovviamente ha messo la parte di cofinanziamento. Una collaborazione fra territori e regioni di grande qualità che restituisce spazi rinnovati che fanno spesso un salto di qualità rispetto a quello che erano prima, abbelliscono i territori, danno ai ragazzi tante opportunità e possono diventare naturali attrattori perché con un impianto sportivo nuovo si possono anche attrarre tornei, attività sportive che portano persone in giro per la regione. Un campo sportivo all'avanguardia con tutti gli accorgimenti del caso per permettere così di giocare a chi ne soffrirà in totale tranquillità. Un nuovo manto erboso sintetico, spogliatoi, illuminazione a led e nuove tribune per il pubblico. Grande soddisfazione anche del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano delle Marche, Fabio Luna, che ha sottolineato come questa struttura non sia solo un campo qualsiasi ma un punto di ritrovo per tutta la comunità. Siamo riusciti a sensibilizzare la regione a investire nell'impiantistica sportiva e dopo oltre 20 anni la regione ha investito oltre 6 milioni di euro per poter far sì che i nostri impianti siano sempre più idoni alla pratica sportiva ma soprattutto siano sempre anche più sicuri per poter ospitare i nostri ragazzi in ambienti sani ma torno a ripetere sicuri che è alla base di tutto.